Evitare lo spopolamento delle zone interne della Toscana attraverso l'integrazione di servizi per rilanciare i territori. Questi punti chiave del protocollo d'intesa per le aree del Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio, firmate in Regione Toscana dalla Vicepresidente Stefania Saccardi e dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Valdarno, Valdisieve, Vito Maida. L'intesa prevede interventi per 7 milioni e mezzo di euro per sanità, scuola, trasporti e sviluppo economico attraverso fondi statali, europei e regionali. L'accordo interesserà 23 comuni. Questo protocollo d'intesa, che poi confluirà in un accordo che dovremmo sottoscrivere come Regione Unione dei Comuni con il Governo, è un ulteriore step per riuscire a canalizzare su questi territori un finanziamento di oltre 7 milioni di euro che ci consentirà di intervenire su sanità, su mobilità, su infrastrutture, cioè tutti quei servizi che poi consentono ad aree più lontane dai centri maggiormente abitati di continuare a sopravvivere e di essere un presidio fondamentale per tutta la Regione. Gli interventi per quanto riguarda la sanità hanno come obiettivo quello di aumentare l'assistenza territoriale e la tempestività dei soccorsi. Per la scuola l'implementazione dell'offerta del servizio degli asili nido, il trasporto scolastico, le menze e l'inclusione. Per la mobilità la strategia punta a riqualificare le zone delle stazioni di Vernio e Marradi, con due ciclostazioni, ma anche l'abbattimento dei costi per gli studenti e il potenziamento del trasporto pubblico locale. Per lo sviluppo economico dell'area si punta al passaggio generazionale e alla nuova imprenditoria nei settori dell'agricoltura, commercio, con le creazioni di reti per il rilancio del turismo ecocompatibile legato allo sport. Grazie a tutti.